Abbiamo aperto la Michelangelo ancora ora come crisi 40 dipendenti nella Valtiberina e questi 40 dipendenti fanno prodotti di accessoristica per l'alta moda. Allora se pensiamo che Arezzo possa ritirarsi su col turismo e basta, si è persi il capo. Il grido di allarme di Alessandro Mugnai, segretario provinciale della CGL Aretina, è forte e chiaro. L'emorragia di posti di lavoro nella nostra provincia non si ferma anche in questo 2019. Arezzo scivola giù in numerose classifiche, quella più recente e quella redatta da Italia Oggi, dove siamo passati dal ventesimo posto al cinquantesimo. Il reddito medio ufficiale di 19 mila euro e Arezzo crolla proprio su affari e lavoro, che un tempo invece erano il nostro forte. Il terziario è fondamentale, però deve essere in un contesto generale. La Germania non è una potenza perché ha un buon turismo, un buon sistema di servizi, è una potenza perché la manifattura industriale, tra l'altro, è passata avanti a quella italiana. Deve tornare prima in agenda come argomento il lavoro manifatturiero, perché questa provincia ha dato dimostrazione sempre di avere capacità e possibilità. Questo vogliamo e questo è un punto di partenza. Un declino non solo economico ma anche sociale sul fronte della salute, per esempio Arezzo è al settantesimo posto e le sorelle dell'area vasta al settimo, Siena e tredicesimo, Grosseto. Gli uffici che si occupano di vertenze sono pieni, così come quelli che si occupano di disoccupazione. Le vertenze sono aumentate o diminuite nel periodo della crisi? Sono aumentate in maniera vertiginosa, abbiamo le nostre camere di lavoro assediate, le abbiamo assediate al secondo piano dove c'è l'ufficio vertenze, le abbiamo assediate al primo piano dove c'è l'Inca per le disoccupazioni, per gli ammortizzatori sociali. È l'ennesimo esempio di una città in declino. Va detto, non è questo per fare il pessimismo o per fare il sindacalista che porta sempre i problemi. Non è un problema di sfortuna. Ora servono le volontà, soprattutto istituzionali. Il sindacato deve fare il sindacato, Confindustria deve fare Confindustria, ma le istituzioni amministrative e le parti politiche devono ridare, riavvio una nuova stagione per questo territorio, se no non compicciamo niente di buono.